eccomi qua da dove hai cominciato? ho cominciato da qua da lassù? da lì? dall'ingresso poi sono andato qua qui c'è la direzione elettorale poi 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 le ho portate qua ah già le hai portate? vedi? vedi? i fili di sopra vedi? da domani stacchiamo il vecchio e funziona la sua linea nuova vedi questo questo è via via adesso lo metteremo metteremo vedi? un attacco qua un attacco là taglio questo taglio questo taglio questo vado di qua lo collega a questo filo qua vedi? io lo faccio passare dentro ah e così che funziona lo metto qua vicino in modo da non fare un nodo troppo grande io lo metto qua in giro in giro ah l'avvolgi più o meno perché sembra sempre facile però ce n'è sempre un po' con questo non ci ci apre il nastro isolando perché sennò si ingarbuglia si ingarbuglia se non lo scorre per non far fare la punta molto rossa rossa appuntita questo qua lo tagliamo qua ciao e cerci sei tu in prima linea sono in guerra sono in trincea ci mettiamo questo qua poi quello andiamo a completare perché sennò potrebbe non tenere qui sono stato anche un po' esagerato non è meglio esagerare che se mi è scappato di là mi ha fatto una cazzata si? si che è pure provato anzi certo vedete non va dentro è scappato? eh no se ne è uscito prende non va più dentro basta finito porto via si diceva così corpottina in italiano e guardate non è quello cos'è questo? non è quello non è quello è quello che ha successo detto facciamo vedere come si fa? si taglia se non va bene si fa così errore, stupido perchè per chiacchierare non era legato adesso ricominciamo da capo quindi incominciando da capo rimettiamo questo qua dentro e lì più no perché qui è fatto bene scorrere bene ma se no vedi quanto arriva lì se ne vuole ancora qua ancora non esce ancora no? spingi ancora no, non è possibile spingi ancora, lo sento io parla bene non vuole essere uscita non vuole essere uscita non vuole essere uscita le pote di sopra guardate sono investiti sono barba non riesce vedi si è rotto il ferro è già finito si è rotto il ferro non passa neanche questo è sul diritto provo a vedere posso uscire non riesce a giudicare non riesce a giudicare non riesce a giudicare Grazie a tutti.